Fatture per operazioni inesistenti al riciclaggio nella commercializzazione di auto di grossa cilindrata. Per questi motivi le fiamme gialle hanno eseguito il sequestro per equivalente per oltre mezzo milione di euro disposto dalla Procura della Repubblica di Nocena Inferiore. Gli indagati, secondo la ricostruzione degli inquirenti, hanno simulato nel tempo la vendita di 22 autovetture, tra queste anche una Ferrari dal valore di 150 mila euro, ad una società intestata ad un prestanome di fatto inesistente. La vendita fittizia era stata effettuata per evadere il fisco, ma anche per sottrarre le 22 vetture ad una misura cautelare reale già disposta in precedenza. Non a caso, nell'agosto del 2020, gli indagati erano già stati sottoposti a misure cautelari personali e reali, successivamente annullate dal Tribunale del Riesame di Salerno, decisione poi sul ricorso della Procura della Repubblica di Nocena Inferiore che la Cassazione ha annullato con rinvio il pronunciamento del Riesame per una nuova decisione rispetto alle misure cautelari personali. In attesa della nuova sentenza è stata accolta dal GIP presso il Tribunale di Nocena Inferiore la nuova richiesta di sequestro preventivo.